Ciao ragazzi, oggi parleremo di una delle domande che ci viene rivolta spesso, riceviamo spesso email su questa domanda, ossia si può creare una rendita passiva tramite Amazon? È una domanda molto interessante e preferiamo partire dal concetto di rendita passiva chiamato anche rendita automatica o come dicono passive income, esatto. Mattia cos'è il passive income? Spiegaci un attimino che cos'è questo concetto. Allora il passive income per noi è un'entrata automatica che arriva senza che noi siamo convolti in quell'attività, senza lavorare per quell'attività. Logicamente per poterla creare bisogna prima lavorare e poi si godono i frutti di questa attività. Un esempio può essere appunto il libro dove lo scrivi una volta e dopo il periodo di promozione tu ricevi costantemente una percentuale sulle vendite che fa il libro. L'altro esempio sono i brevetti, altri esempi sono le royalty provenienti dal design di certi prodotti, non so, le sedie e quant'altro. Cioè in questo caso qui si brevetta un prodotto o un design e poi si vende questo brevetto o questo prodotto ad una società e si ricevono queste royalty. Amazon può diventare un passive income secondo te Vadim? Allora Amazon può diventare un passive income, c'è una cosa importante da distinguere che prima di tutto dobbiamo capire che Amazon non è come i brevetti, non è come i libri, non è come quegli esempi che hai fatto te. Allora adesso vediamo perché Amazon può diventare un passive income. Lo può diventare come lo può diventare una qualsiasi altra azienda e come lo diventa? Lo diventa strutturandolo in una certa maniera, seguendo le giuste strategie e sicuramente lo può diventare a medio lungo termine. Quali sono i vantaggi di Amazon? I vantaggi di Amazon sono quelli che Amazon ha un traffico di clienti molto importante, quindi immaginatevi di essere voi un negozio in un centro commerciale, quindi dalle porte del centro commerciale entra un flusso di persone, un flusso di clienti. Poi la bravura del negoziante di, facciamo degli esempi, farsi pubblicità, fare delle azioni per aver la visibilità davanti a quel traffico di clienti. Amazon funziona in maniera simile, quindi Amazon ci fa entrare dalla porta al cliente, poi siamo noi che seguendo certe strategie e certe azioni riusciamo a posizionarci in maniera migliore o peggiore all'interno della vetrina Amazon e questo garantisce il successo. Ovviamente avendo tante parti automatizzate o comunque gestite da Amazon come la logistica eccetera, farlo diventare una rendita passiva è possibile, non è impossibile. Sicuramente è un lavoro a medio lungo termine e quindi bisogna lavorarci sopra. Assolutamente, quindi Amazon di base non è una rendita passiva, può diventare una rendita passiva solo con delle giuste strategie, con delle giuste deleghe e questo è quanto. Sì. Se avete delle domande scriveteci sotto. Ciao ciao a tutti. Ciao ciao, ci vediamo al prossimo video.